Salve a todos ragazzi, sono sempre io e il vostro XMetacross405 e benvenuti in questa nona parte, si, la nona, si dovrebbe essere la nona di Pokémon Victory Fire Lel, non mi ricordo mai che parte è XTXD11, punto esclamativo Comunque, basta di ristronzate e rieccoci appunto in un nuovo episodio In questa parte che faremo? Andremo a battere la palestra Bezzo, ok, Darkness quindi mi porta a pensare che questa palestra sia di tipo buio Quindi, questa qui è la nostra squadra Abbiamo Magby al 23 che abbiamo cattato nella scorsa parte Che non ho allenato ovviamente ragazzi, ma che vi aspettavate? Ok, il problema è di entrare e veniamo interrutti da questo tizio Che ovviamente ci sfida Oh cazzo! Lel, Arcanine Aspetta, forse è il tizio dell'altra volta Scintilla Eh, strunza Cosa vuoi fare contro Luxury? Oddio Blaziken pure No, perché ho fatto Morso? Scintilla Dagli Luxury, mandalo K.O Grandissimo Luxury Mamma mia, quanto è forte ragazzi Xa, tu te lo mando subito K.O Vai tra, vai tra Forse dovrei fermarmi e allenare i Pokémon ragazzi Molto probabilmente mi farà il culo questa palestra Ma dico molto probabilmente È alquanto, è alquanto remota la possibilità che non mi faccia il culo Ok, compriamo super pozioni Sto che ne abbiamo soltanto quattro Il che non va bene Quindi Entriamo e vediamo cosa ci aspetta Ok L'Arvitar Ok, allora è di tipo buio Cazzo Cosa uso? Facciamo un Shadow Ball Non gli facciamo abbastanza danno Quindi Dei utilizzare Hunter Sneasel Dai Magby Oh cazzo Grande Uh No Lel, poteva farcela Poteva farcela Vai Axiu Dragartigi E tanti saluti Sì ragazzi È di tipo buio Poiché Per chi non lo sapesse Snisola è buio ghiaccio Mentre L'Arvitar è roccia terra Però diventerà Tirantar Che sarà di tipo Roccia buio Quindi Battiamo quest'altra Allenatrice Houndor Ok Vai Axiu No Dio Dio bestia Ok Dragartigi Se vai par Ok Magby Credo che sia l'unico modo per allenarlo Oddio potrei allenarlo tranquillamente fuori parte Però mi scoccio Veleno coda Palla ombra Gli facciamo Un buon danno Ecco Se tipo I pokemon degli allenatori sono così forti Immagino Quelli del capo palestra Ancora l'Arvitar Se facessi così Ecco Sono uno stronzo Vabbè Vai Hunter No no Maledizione Maledizione Ecco Però adesso avrei una strategia Contro il capo palestra Potrei fare maledizione E poi curarmi Hunter Potrebbe essere una buona strategia ragazzi Ok mi fa Scary face Poi mi fa Bullo Lo stronzo Sì vabbè Poi mi fa segugio E poi si confonde Hunter Perché è gay Sì è gay Ok Dai Axiu Mi fa anche Anche su Axiu Bullo Ok Andiamo a curare di nuovo Il Pocket Most Intanto siamo a qualcosa Mecca a fine Rompere le palle Intanto Stavo per dire Siamo a qualcosa come 400 iscritti 402 Sì E sono davvero felice Di aver raggiunto I 400 iscritti In così poco tempo Ragazzi Siete Semplicemente Meravigliosi Davvero In 5 mesi 400 iscritti Sono tanti E Procediamo davvero bene Quindi spero Di continuare Così E magari Chissà Arrivare Un giorno ai mille Potrei provare Fuocopugno Perché è super efficace Vabbè ovviamente C'è a velena Questo era ovvio Ok però lo mandiamo K 25 per Magby Muro di fumo Ma non glielo faccio imparare Non lo Ah ok Devo fare Dio No Oh Mike Tenam Mi ammazza Quindi Famo così Ma c'erano tutti I bullo Dio Ma mi diminuisce La velocità Attacca prima lui Ok me la diminuisce Di nuovo Fa segugio E adesso Io lo mando Affanculo Con una bella Palla ombra Oh cazzo Zoroark Sei serio Sì vabbè ragazzi Ve l'ho detto Ci farà il culo Altamente anche Oddio No Vai con tre cartigi No Dovevi farlo Ok Grandissimo Axi Resiste con 5 PS Dio A Zoroark Questo pezzo Di merda Il che Mi rende alquanto Sterrefatto Zoroark Alla 4 Lel No Alla 4 Alla 4 Alla 4 palestra Lel Ok Proviamo a giocare Di strategia Famo così Iniziamo con lui Ok Già non mi piace Il fatto che abbiamo Mike Tena A questo livello Mi facciamo Stor di raggio Confonditi No Ovviamente non si confonde Poi mi manda Cappò con uno Sgranocchio Ah Cazzo Cazzo C'è una dragonanza Confonditi Maledetto Vai Axi Dio manco si confonde Sto stronzo Dragartigli Uh Lo manda A K Ok A Undom Dragartigli E lo manda A K Attenzione Ragazzi Daglie Screfti Addirittura Resiste Vabbè Ci ha aiutato Paricchio Ci ha aiutato Paricchio Axi Daglie Con scintilla Ok Cura tutte le volte Che vuoi Tanto ti faccio Fuori io Perfetto 37 Dai Luxury Facciamogli fuori Zoroark 36 No La danza spada Mi preoccupa Ui Tadiamo un sacco Abbiamo vinto Ragazzi Abbiamo vinto Grazie alla Strategia Grazie alla Dragonanza Di Axio Senza la quale Probabilmente Avremo perso Questa lotta Sì Per le prossime Parti Li allenerò Lel Cioè perché Quello là Che sta bene Con i livelli Diciamo che È normale Va E l'Axaray Perché gli altri Poi Sono Sottolivellati Cioè oddio Hunter Axio Non tanto Però Meg B Tipo Fa un po' Cagare Quindi Quanto siamo Di minuti 10 minuti Dai Possiamo fare Almeno altri 5 minuti La città L'abbiamo esplorata Nella scorsa parte Con Tuino Quindi Direi di proseguire Di qui Ok di qui Meg B Non è la scelta Più adatta Contro un pescatore Eh infatti La scelta Più adatta È lui Che cazzo Ha detto Vaporion Dio Da quando I pescatori Hanno Vaporion Avrei detto Magikarp Tipo Al limite Stanfisk Ma mai Vaporion Vabbè Alleniamo un po' Hunter Mi usi Raffica Ma Mi togli Un cazzo Ok Dei farimbalzo Che mi toglie Un po' Di più Ma neanche Troppo Ok Qui Non c'è Nada Grovile 21 WTF Secondo me C'è stato Qualche bug Dovevano farlo Tipo 31 L'hanno fatto 21 Questo qui 32 Doveva essere Secondo me C'è stato Qualche bug Che mi fa Individua Vi faccio Trocortigi E lo mando K Ok La registriamo E qui E qui c'è Il team Steam Dio devo ancora imparare I personaggi Di questo gioco Perché mi è uscito Un XD X Treat for What the fuck Toxic Toxic rock Ecco Merda Questo è un bel problema Ma Ah botta Che una mossa di merda Mi faccio di più io Succhia E ti mando anche K Rosica Ah si Lo scrigno Perfetto Adesso mi muore Axie Purtroppo Si Mag Magby Magby È più veloce Dovrebbe essere Più veloce Si vabbè Due volte protezione Si è più veloce Succhia 27 per Magby Sheldon 36 Abbastanza Abbastanza Forte Anche lui protezione Ma il nostro hunter è più forte 34 per hunter Non ho la benché minima idea Del fatto che Se si evolve Fra poco Cazzo mi sfidi ora bastardo Ah non so se c'è i pokemon morti Sì me li ha curati grazie Fammi un fire punch Ok evita l'attacco bravo magby Che poi tipo ragazzi se vedete In questo let's play in pratica Ogni parte Ogni parte c'è almeno una lotta Con un rivale E dire una lotta è poco perché in ogni parte Ne sfido almeno 3 o 4 Di rivali che poi tipo Finora non ho mai sfilato lo stesso rivale Per due volte Cioè forse si in rari casi Ma la maggior parte delle volte Sfido sempre lo stesso rival Diversi rivali Il che rende l'acrom Abbastanza figa Intanto tutti i rivali hanno i pokemon Più alti Di livello dei nostri però Gli facciamo il culo a tutti Oddio quanto mi ha tolto Nello Vai hunter Fai vedere chi sei Electric Ok Mi fa scintilla Mi toglie Leggermente troppo Ok Vai luxury Vai Bait Meno male che c'è luxury Ok qui dentro cosa c'è? Un cazzo No no Dovevo tornare al centro medico Ecco Scintilla Tanti saluti Amichetto mio Ok No No basta Bastardo Oh vabbè ragazzi Andiamo a curare Il pokemon Lullo E Dove cazzo sta il centro medico? No Questa è la palestra Eccolo Non stavo parlando Perché non c'avevo voglia Ragazzi Tranquilli Non sono andato da nessuna parte Lell XD Vi siete spaventati eh No Mi fa turbine Infamissima Poi si cura pure Però adesso muori Vero? No Adesso muori XD Perché mi volete registrare tutti? Dio Che cosa è inutile Tanto lo stesso non vi chiamerò mai Qui si trova Shinx Ma io ho l'Axaray Io ho l'Axaray Bitch Cosa me ne faccio di Shinx? Il solito P-Dov Buggato Mmm Niente di interessante Vabbè ragazzi Andiamo Ma quanto siamo? 17 minuti ragazzi Battiamo questa E poi stacchiamo Anzi no Battiamo le gemelle E poi stacchiamo Dai Abbiamo fatto Abbastanza In questa parte Fire punch Scintilla No 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 l'ho fatta su Magby Ho fatto scintilla Su Magby Che stronzo Scusami Magby Non volevo Non prendertela con me Ho fatto scintilla Su Magby Lel Vabbè ragazzi Per la prossima parte Ve li farò trovare Allenati sicuro Almeno credo Cioè dico sempre Che li allenerò fuori parte E poi non lo faccio mai Perché mi scoccio Se lo faccio Se lo faccio probabilmente Troverete Magmar Al posto di Magby Metacross Tu si citto Come fai ad avere Magmar Ecco Lel Già mi immagino Un commento del genere Quindi ragazzi Se il video vi è piaciuto Come sempre Vi invito a lasciare Un mi piace E magari un commento Quindi Ha anche un'iscrizione Non so tanto Al mio canale Ma anche a quello Dei Poké Gamers Quindi Lel Da X Metacross 405 È tutto Ci si vede Dunque Al prossimo video Ciao Ciao